Fino ad oggi il processo di realizzazione di un impianto industriale è sempre avvenuto tramite sistemi bidimensionali, quindi realizzazioni di schemi in 2D. È un sistema storicamente ormai consolidato ma che nel tempo ha dimostrato una serie di criticità. Uno dei problemi più grossi è il tempo considerevole di realizzazione delle tavole e il numero di errori che si incontrano durante la progettazione. La tecnologia oggi sta facendo un passo avanti e oggi i clienti possono sfruttare un metodo di progettazione innovativo che unisce il metodo classico bidimensionale a un metodo di lavoro tridimensionale. Questa integrazione consente di risolvere tutta una serie di problemi quindi non solo dalla verifica di interferenze e la verifica di simulazione di trascinamenti di impianti ma anche la possibilità di risparmiare tempo nella realizzazione di tavole bidimensionali, sezioni. Il vantaggio però prevalente è quello di offrire una visione innovativa del prodotto soprattutto al committente. La risposta ad oggi per questi problemi per noi è Factory in Design Suite, una soluzione che integra strumenti storici come AutoCAD 2D e innovativi strumenti tridimensionali come il nostro prodotto di punta inventor che hanno un legame bidirezionale. È possibile quindi sviluppare un disegno con il metodo tradizionale e avere una sincronizzazione tridimensionale, quindi vedere il nostro modello nascere dal 2D in tridimensionale. Grazie a tutti.